Mentre camminiamo nel paddock in cerca di una macchina da guidare in pista, la nostra attenzione viene catturata da una ragazza che sfreccia su di un oggetto stranissimo. Dobbiamo assolutamente provarlo, così Marcello chiede informazioni in giro e gli viene suggerito di parlare con Paolo Badano, l'inventore del Genny Zero. Paolo, raccontaci questo progetto Genny Zero che noi abbiamo appena testato, è una cosa meravigliosa. Grazie, grazie. Raccontaci come nasce e l'evoluzione. Allora, nasce da lontano perché questo progetto ha ormai più di dieci anni. Nasce con una collaborazione di Segway, voi vi ricordate Segway era quella biga a due ruote che si guidava in piedi. Ecco, che è l'opposto del mio problema che avevo perché io ho una disabilità ormai da 26 anni, un classico incidente in moto e la conseguenza è una rottura di una vertebra e quindi la sedia a rotelle, io non posso camminare. Io più di dieci anni fa cercavo qualcosa che andasse oltre la sedia a rotelle, che mi risolvesse dei problemi dal punto di vista della mia mobilità personale. Incontrai la tecnologia Segway, questa tecnologia appunto innovativa che si muoveva su due ruote autobilancianti, ma si guidava in piedi. E allora ne presi uno, lo modifichai nel garage e ho capito immediatamente che c'era un nuovo modo di muoversi per le persone con disabilità. Questa tecnologia che si muove semplicemente col corpo in avanti e indietro e quindi riprende l'uso delle mani, per esempio, che non sono costrette a spingere una sede a rotelle. Poi Segway ha fatto una brutta fine, quindi io mi sono trovato in una condizione in cui non avevo più il motore e abbiamo riengegnerizzato il Segway portandolo in questo secolo qui. Quindi un'equip di ingegneri elettronici e mecatronici abbiamo lavorato per ridefinire e ricostruire una base autobilanciante. Molto più simile, come ti stavo raccontando, a un elicottero con una macchina, perché usiamo le ridondanze tipiche aeronautiche. Noi abbiamo tutti i componenti raddoppiati, così in caso un componente interno si dovesse rompere, l'altro componente ne prende il sopravvento e impedisce la caduta. Le schede elettroniche sono fatte in Italia, i gearbox sono fatti in Italia, tutte le fusioni sono fatte in Italia, tutta la parte telaistica è stata affidata da Cerbis, un'azienda leader italiana, leader nel mondo, nelle plastiche caricate in fibra. Tutti i componenti sono fatti in Italia, poi assemblati in Svizzera e per questo è un mezzo Swiss Made, di nuovo per garantirne la sicurezza. Che cosa ha di innovativo questo mezzo? Noi siamo partiti dalla disabilità per dare più autonomia e un modo nuovo di muoversi alla disabilità e questo sta funzionando. Ma il tema che ha sposato poi anche B-Charge e del gruppo Plenitude è questo progetto di portarlo anche verso la micromobilità. Perché una città a 30 all'ora non ha senso con una macchina elettrica con 700 kg di batterie, per muovere magari 100 kg di persone sopra. Noi abbiamo 2,5 kg di batterie raddoppiate, abbiamo 5 kg di batterie per spostare una persona. Un design che integra, che cosa significa? Una sedia a rotelle è pensata per la funzionalità, non per il design. Tutto il mondo del medicale è pensato solo verso la funzionalità. Beh, chi vede Jenny e chi guarda Jenny non vede la disabilità ma vede un mezzo e dice ma è molto bello come mezzo e in più è tecnologico. Il mondo spende miliardi di dollari e euro per integrare le persone con disabilità e dire che io sono uguale a voi. Mentre questo mezzo lo fa istantaneamente. Oggi io e te siamo due persone sedute su un mezzo di mobilità, poi io sono disabile, tu no. Ma oggettivamente non interessa nessuno perché è la mobilità quello che fa da padrone. E quindi credo che sia un concetto nuovo questo a livello globale in cui si portano dei mezzi che vanno bene a tutti, sono inclusivi quindi, ma che aiutano la mobilità nelle nostre città. La partnership tra Plenitude e Jenny Zero nasce dalla Claim Joint Electric ERA che è un po' la missione che Plenitude persegue attraverso B-Charge nella mobilità elettrica e in questo caso ci accomuna ai fondatori Jenny Zero il fatto di avere gli stessi valori che sono sostenibilità, inclusione e tecnologia. Ed è una tecnologia che nasce dalla disabilità ma secondo noi ha delle grandissime potenzialità di applicazione in quello che è il mondo urbano della micromobilità. Il nostro concetto vuole essere utilizzare la mobilità elettrica come tecnologia, sfruttarne tutta la potenzialità, ma non è l'unica soluzione. Quindi non vogliamo proporre di arrivare sul sagrato di una cattedrale con un'auto elettrica ma possiamo utilizzare anche degli altri mezzi per l'ultimo miglio e quindi vogliamo sostenere anche la mobilità leggera.